Salve a tutti, oggi vi presentiamo il nostro prodotto Oral-B Pro Cross Action 2000. All'interno della scatola troviamo lo spazzolino, la testina intercambiabile, la base col cavo elettrico e il libretto delle istruzioni. Le dimensioni dello spazzolino montato sono di 25 cm, una volta in funzione lo spazzolino può raggiungere le 40.000 pulsazioni al minuto, ha un timer da 2 minuti e un sensore di pressione. Per applicare la testina sul spazzolino basta inserire prima la guarnizione e poi la testina. Per la ricarica basta inserire il corpo dello spazzolino nella base, attaccarlo alla corrente e si accenderà un LED luminoso. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it Grazie 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 Grazie